Sveglia! Ma che è tardi! Ancora così stai! Che dobbiamo andare al mare! Pure in pigiama stai! E ormai stavo dormendo fino a due secondi fa! E poi pure tu stai pigiando! E che ci vuole? Io ci metto un attimo a cambiare! Mi sono lento come a te! La rovata! Ancora così stai! Ma muoviti! Andiamo! Che è tardi! Ma? Hai caricato la macchina? Ma stiamo andando mezzogiornata al mare! Non sei mesi nel caocco! Non ti sembra di esagerare! E perché è giusto lo stretto necessario! Stretto necessario! Cioè dico io! Occorreva portarsi pure il ventilatore! A domani! Qua sta la parmigiano! Mi raccomando! Mettila sopra sopra! Qua sta la pizza di patate! Mi raccomando! Mettila sopra sopra! Qua sta la tela di patate di seccozze! Sopra sopra sopra! Qua sta l'inzalata di riso! Sopra sopra! Mi raccomando! Scusa il nonno dove sta? Sotto sotto! Siamo arrivati! Ascolto! 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 Oh Dani! Mi spalmi la crema! Ma tu ascemonito! Ci devono prendere per... Siamo nel terzo millennio ancora con queste cose! Spalmiamo la crema! Oh quindi che faccio? Ho prenduto il volo dell'angelo? Certo! Lo sai che per me al mondo Non c'è niente di più eccitante! No ma parlavo del volo dell'angelo! Cioè non... No ma non... E' una cosa... Oh Dani qua è caldo eh! E' un po' forti! Eh no dai che è schifo! Ehi! Guarda lui! Uno! Due! Tre! Quattro! Oh non va! Lì c'ho l'alzatore! Che gli entusia! Oh no io gioco più! Oh! Io non gioco più! Scusate! Link! Bagni! Di lì! Grazie! Prego! Oh signorina! Lo sai che è un lato bi spettacolare? Gli piace? Ah ah! Aspetta! Che mo' il mio ragazzo te lo fa vuoi! Ah no! Ciao! 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 Ci ho notato da prima! Molto carina! Complimenti! Che dici se andassimo al bar a bere qualcosa? Magari un caffè? No grazie! Non bevo caffè! Vabbè questo va per dire caffè! Magari io prendo un caffè tu prendi un latte macchiato! Un cappuccino! Ah no grazie! Sono anche intollerante a lattosio oltretutto! Ah! Tolerante a lattosio! Vabbè! Magari una spremuta d'arancia eh! Proprio l'arancia no! Mi fa venire acidità di stomaco! Grazie allo stesso comunque! Acidità di stomaco! Facciamo una cosa! Questo 5 euro! Prenditi quello che vuoi! Passo che poi me la dai eh! Beh te ne vai? Ma dico io! Cosa ha quello più di noi? Com'è che fa a rimorchiare così a bestia? Vabbè sarà il passino del bagnino! Amor io sto giù! Ok! Ok! E poi dovremo comunque! No quella sarà Mariangela che si sta depilando! Come dicevamo! Ecco mio amore! Sono pronti! No! Sono pronti! E anche oggi! Si va a mare domani! Molano! E comunque la colpa è tua! Che da venire alle 9 e un quarto sei venuta alle 9 e mezza! Gigi! Ci andiamo domani a mare! Gigi! Ma dovevo parcheggiare il pedalotto? Ciao! Ciao!